Paura, panico e terrore al Teatro Romano di Teramo, dove una classe della scuola elementare Sarti si è introdotta per raccontare la storia del più importante reperto archeologico d'Abruzzo. È la giornata delle miniguide, tutta la città invasa dagli alunni teramani pronti a spiegare i luoghi artistici più importanti. I bambini della Sarti si erano disposti sulle grandi pietre del Teatro Romano. Qualcuno ci saltava sopra quando un masso si è ribaltato ferendo la caviglia di un piccolo alunno. La concitazione è stata grandissima, sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, sindaco e polizia scientifica per i rilievi. La cosa che deve essere accertata adesso è se davvero la classe avesse avuto il permesso di entrare all'interno del Teatro Romano, che di fatto è un cantiere. Sembrerebbe che la scolaresca dovesse invece restare davanti l'antistante chiesa di San Bartolomeo. I residenti, testimoni dell'accaduto, hanno riferito che il cancello che delimita appunto il cantiere era spalancato, probabilmente perché la Team stava tagliando l'erba all'interno. Il bambino ferito, a parte la paura, sta bene. La dinamica dell'incidente, oggetto di indagini, sarà perfettamente ricostruita dal Comune e dalla Polizia. Grazie. 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 Grazie.